Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi vi racconterò un caso un po' diverso dal solito che si inserisce perfettamente nell'atmosfera di Halloween. Questa storia ci porta in un mondo di ossessioni oscure contornate di elementi che sembrano usciti da un film horror. Vampiri, rituali e simboli inquietanti sono solo la cornice di un crimine che sembra essere legato al mistero e al soprannaturale. Ma sarà veramente così? Prepariamoci a scoprire come l'ossessione può trasformarsi in tragedia. Questo caso inizia con un matrimonio. Manuela, la sposa, indossa un bustino nero ornato di fibbie di metallo. Tra i suoi capelli neri spiccano delle ciocche rosa, porta al collo una croce rovesciata e stringe tra le mani un piccolo bouquet di rose bianche e fiori della nebbia. Lo sposo, Daniel, veste una giacca di pelle sopra una maglietta nera di una band black metal. Nella foto del matrimonio, la coppia fissa freddamente l'obiettivo senza alcuna traccia di sorriso. Daniel e Manuela Ruda hanno scelto con cura la data per pronunciare le loro promesse matrimoniali, il 6 giugno del 2001. Questo perché il numero preferito della coppia è 666, il numero della bestia, un numero che è da sempre associato al male incarnato, all'anticristo, ovvero a Satana. Prima che Manuela e Daniel si conoscessero, entrambi avevano già giurato fedeltà al diavolo. La data che scelgono per sposarsi è solo il primo segno concreto della loro devozione all'oscuro signore. Daniel aveva conosciuto Manuela tramite un annuncio nella sezione Cuori solitari di una rivista di musica heavy metal chiamata Metal Hammer. Nell'annuncio accuratamente pensato per trovare la compagna perfetta si poteva leggere Vampiro dei capelli neri cerca principessa delle tenebre che disprezza tutto e tutti e ha detto addio alla vita. Anche a Manuela piacciono molto i gruppi black metal e anche lei è una lettrice di Metal Hammer, la stessa rivista dove Daniel ha pubblicato il suo annuncio. Appena lo aveva letto Manuela si era incuriosita e aveva deciso di rispondergli scrivendo una lunga lettera. Dopo poco tempo Daniel le aveva risposto a sua volta e i due erano presto diventati inseparabili fino a condividere un appartamento nella città di Bohum, nella Germania occidentale. Oltre alla passione per la musica metal, Daniel e Manuela condividono altri interessi peculiari. Il primo ve l'ho già menzionato, è l'adorazione di Satana. Il secondo è un obiettivo ancora più bizzarro, trasformarsi in vampiri nella vita reale. Sognano di diventare creature mostruose, immortali, succhiatori di sangue che dormono nelle bare. Di certo è stata una sfida non da poco per loro trovare qualcuno con obiettivi e interessi così specifici. Ma ora facciamo un salto indietro per esplorare il passato di questi due aspiranti vampiri. La prima infanzia di Daniel è avvolta nella nebbia a causa delle rigorose leggi sulla privacy che in Germania sono ben più severe che negli Stati Uniti. Si sa solo che è nato nel 1974 o nel 1975 e che durante l'adolescenza gli è stata diagnosticata una malattia mentale non meglio specificata. Secondo i registri psichiatrici del tribunale, fin dalla tenera età si sentiva distaccato dai suoi coetanei e reagiva in modo anomalo al contatto fisico, sussultando. Non ci sono prove certe di abusi o traumi infantili, ma è evidente che nella tarda adolescenza aveva iniziato a considerarsi diverso e soprattutto superiore rispetto al resto degli esseri umani. Per distinguersi ulteriormente, Daniel si immerge nella controcultura in attività ribelli, vestendo in modo da scioccare coloro che considera suoi inferiori. Afferma che ai tempi del liceo un'entità oscura di nome Samuel gli aveva fatto visita. Era stato costretto a obbedire agli ordini di questa apparizione e, da quel momento, la sua vita è al servizio di Satana. Il ragazzo inizia a vestirsi completamente di nero, adornandosi di catene, guanti senza dita e rasandosi la testa. L'odio e il disgusto per l'umanità lo spingono verso tutto ciò che riflette queste emozioni. Daniel abbraccia anche l'ideologia dell'estrema destra e il movimento neonatista, iniziando all'età di vent'anni a fare volontariato per il Partito Nazionale Democratico della Germania, NPD, formato nel 1964 come successore del Partito Der Reich tedesco. Il governo tedesco tenta di mettere al bando l'NPD, considerato una minaccia per l'ordine costituzionale, ma senza successo. Nel frattempo, i membri dell'NPD si rendono conto che un gruppo crescente di giovani emarginati è disposto a sostenere gratuitamente la diffusione della loro ideologia presso altri giovani. Così il Partito utilizza i ragazzi come Daniel per reclutare nuovi membri, offrendo loro biglietti gratuiti per concerti metal-nassisti. In cambio, queste reclute, che avevano promesso la loro fedeltà al Partito, si sentono incoraggiate a indossare stivali militari e abiti decorati con svastiche. Nonostante ciò, il Partito Nazionale Democratico ottiene scarsi risultati alle elezioni del 1998 e Daniel perde interesse per la politica. Si immerge sempre di più nella cultura goth e black metal tedesca, dove incontra altre persone che condividono le sue oscure inclinazioni. Inizia a farsi chiamare Sundown, in italiano tramonto, e diventa esperto di band black metal. Nel 1999 entra anche a far parte di una band chiamata Blood Sucking Freaks. Non è chiaro se Daniel suoni uno strumento o canti, ma è certo che da questo momento in poi inizia a identificarsi come un vampiro. Lima i suoi canini per farli assomigliare a zanne e partecipa a diversi rituali in cui lui e altri vampiri si feriscono e si stucchiano il sangue a vicenda. Daniel afferma di aver scoperto il suo desiderio per il sapore metallico del sangue già all'età di 12 anni. Ma Daniel ovviamente in realtà è un essere umano e desidera anche lui avere interazioni umane e trovare l'amore, proprio come chiunque altro. Presto capisce che esiste un modo per trovare la ragazza che tanto desidera e che sta cercando, pubblicando un annuncio nella sezione dei cuori solitari in quella rivista Black Metal nel 2000. Così conosce Emanuela Bartel. Anche lei, nata in Germania nel 1979, è figlia unica di una famiglia della classe media. Da bambina vive una vita normale, è molto timida e anche crescendo non diventa di certo una ragazza popolare, però è una brava studentessa. All'età di 13 anni, però, inizia a mostrare qualche problema a livello emotivo. Diventa lunatica, smette di interagire con amici e coetanei e inizia a vestirsi completamente di nero. Inizialmente i suoi genitori non si preoccupano molto di questi cambiamenti, attribuendoli alla tipica confusione adolescenziale. Tuttavia, la ragazzina inizia a sperimentare delle allucinazioni uditive, sente una voce incorporea che le ordina di fare cose bizzarre a cui si sente costretta a obbedire. Col tempo conclude che è Satana in persona a comandarla, a parlarle. La sua salute mentale peggiora rapidamente, fino a quando un giorno inizia a mordere degli sconosciuti incontrati per strada fino a farli sanguinare. A questo punto i suoi genitori la fanno ricoverare in un ospedale psichiatrico per essere valutata e curata. La sua diagnosi non è pubblica, ma sappiamo che inizia a presentarsi regolarmente a delle sedute con uno psichiatra. Nonostante le cure, la sua condizione non fa altro che peggiorare e all'età di 16 anni abbandona la scuola perpetrando la sua convinzione di essere comandata dal demonio. Inizialmente questa condizione le porta un'angoscia profonda che tenta di alleviare con l'uso di sostanze pesanti fino ad andare in overdose. Non è chiaro se si tratti di un tentativo di suicidio oppure solo di un incidente, ma quello che è chiaro è che il benessere mentale di Manuela e la sua stabilità emotiva sono chiaramente in forte declino. Sempre più instabile e fuori controllo lascia definitivamente casa ancora sedicenne. Riesce a raggiungere il nord di Londra dove si unisce a un gruppo di giovani gott. La ragazza si sente un'emarginata, addirittura un mostro a causa dei suoi problemi mentali e per questo motivo inizia a trovarsi sempre più a proprio agio tra le persone che vivono al di fuori della società. La cultura gotta è intrinsecamente legata all'horror e al macabro, soprattutto per quanto riguarda la letteratura. Dracula di Bram Stoker, per esempio, è un classico del genere gotico. Nell'era moderna il simbolismo e i temi gotici si estendono anche a un tipo particolare di musica. Ma quindi, cosa c'entrano i vampiri? Per capirlo dobbiamo tornare tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, quando molte band avevano iniziato ad abbracciare argomenti più oscuri nei loro testi, toccando temi come l'omicidio, la morte e persino il vampirismo. Questa musica spesso esprime sentimenti anticristiani e talvolta incoraggia atti di vandalismo nei cimiteri, come la profanazione di tombe. Quest'ultima attività, in effetti, affascina particolarmente Daniel e Emanuela, che affermano di voler collezionare teschi per posizionarli come oggetto di arredo nella loro abitazione. Alcuni adolescenti che si sentono emarginati o che faticano ad adattarsi, potrebbero immedesimarsi e trovare conforto in questi testi. In particolar modo, coloro che soffrono di depressione o che si sentono invisibili agli occhi della società. L'idea di vivere tra le ombre, come lupi mannari o vampiri, potrebbe risultare allettante per loro. I vampiri, come saprete, evitano la luce del giorno per emergere solo di notte. E questo sarebbe probabilmente uno stile di vita ideale per coloro che non riescono ad adattarsi a vivere nella società convenzionale. Adottare l'identità di un mostro potrebbe fornire loro una giustificazione per rimanere nell'ombra. Questo perché si considerano speciali, esseri non appartenenti a questo mondo, unici nella loro diversità. Il senso di accettazione è ciò che Manuela trova frequentando la sottocultura goth di Londra e dintorni. Trova lavori in un nightclub chiamato Slime Light a Islington, nel nord di Londra, un locale frequentato dai giovani goth, alcuni dei quali si identificano come vampiri. Grazie a questi nuovi amici, Manuela impara ben presto cosa significa diventare un vampiro. Partecipa a diverse feste in cui i partecipanti bevono il sangue l'uno dell'altro. L'unica regola è di non mordere le vene giugulari perché è troppo pericoloso. Solitamente la persona che vuole farsi succhiare il sangue si tira sugli avrambracci per poi offrirlo a qualcuno presente. In quel periodo Manuela è ancora un adolescente, ma inizia ad attirare l'attenzione degli uomini. che cominciano a desiderarla quando la vedono partecipare alle feste per giovani goth vampiri. Oppure la osservano lavorare nel club Slime Light. Alcuni dei clienti del club sono coinvolti in rituali satanici e Manuela è entusiasta di apprendere che tutte le cose che aveva sperimentato quando era più piccola, come i morsi e le voci di Satana, ora sembrano far parte della sua nuova identità. Manuela si era sentita costretta a mordere le persone quando era una giovane adolescente perché era convinta di aver sentito la voce di Satana che comandava le sue azioni fin dalla tenera età. Ora pensa che tutto abbia finalmente senso perché è un vampiro destinato a servire Satana. Nel 1998 Manuela, che ora ha 19 anni, torna per un breve periodo nella sua città natale. Un'amica con cui riprende i contatti in quel periodo ricorda Manuela apparire più sicura di sé, desiderosa di essere sempre al centro dell'attenzione e fotografata. La ragazza poco dopo si reca in Scozia, dove viene assunta come governante in un albergo dell'isola di Skye. Durante il soggiorno sente parlare di un uomo di nome Tom Leppard, soprannominato l'uomo leopardo dell'isola di Skye, che vive da eremita su quell'isola e ben presto diventa ossessionata dal desiderio di incontrarlo e di fare amicizia con lui. Il vero nome di quest'uomo è Vuldridge ed è un ex sergente delle forze speciali della Rhodesia, un'ex colonia britannica dell'Africa meridionale che nel 1980 è diventata l'attuale Zimbabwe. Un tempo era stata a distanza nella valle dello Zambesi, la più grande riserva naturale preservata al mondo. Dopo 30 anni di servizio decide di lasciare la marina, ma trova difficoltoso tornare alla vita civile e non gli importa di mantenere un lavoro regolare. Non riuscendo a immaginare di reintegrarsi e di vivere una vita normale tra i civili, si era prefissato l'obiettivo di distinguersi, facendo qualcosa di unico per cui la gente avrebbe dovuto pagarlo. Purtroppo il piano prende una piega imprevista e a Tom Leppard viene l'idea di farsi tatuare tutto il corpo, dalla testa ai piedi, con delle macchie di leopardo. Non lo aveva scelto perché avesse una particolare affinità per l'animale, anche perché i leopardi erano tra i pochi animali che non aveva mai incontrato nella valle dello Zambesi. Aveva scelto le macchie di leopardo semplicemente perché pensava che fossero più facili da tatuare rispetto a molteplici tatuaggi diversi creati da zero. Per ricompletare il tatuaggio ci erano voluti più di 18 mesi, includendo persino le palpebre. L'impresa gli vale l'ingresso del Guinness dei primati come l'uomo più tatuato al mondo. A quel punto si trasferisce sull'isola scozzese di Skye, dove si stabilisce in una capanna di paglia. Inizia a vivere lontano dalla società, sopravvivendo senza elettricità e riscaldamento e senza indossare vestiti, tranne per un piccolo panno per coprire le sue parti intime. Fa sporadici viaggi in kayak sulla terraferma per rifornirsi di cibo e vive come un'eremita. Presto le persone del luogo iniziano a guardarlo con curiosità, fino ad arrivare ad attirare persone da tutto il mondo, incuriosite dalle storie che venivano raccontate sull'uomo leopardo. Manuela è una di queste persone. Quando arriva alla sua capanna un'estate, l'uomo leopardo la tratta con la stessa cordialità che riserva a qualsiasi altro visitatore. È amichevole con tutti, ma senza avvicinarsi troppo a nessuno. L'uomo in seguito ricorderà Manuela come un adolescente che, a quanto aveva capito, si era recata sull'isola di Skye per una vacanza, ma che aveva poi deciso di rimanerci per un po'. In quel periodo Manuela ha circa 18 anni, mentre l'uomo leopardo ne ha 60. Dopo la partenza di Manuela dall'isola, i due mantengono un contatto epistolare per un certo periodo. L'uomo riceve anche un biglietto di ringraziamento dai genitori della ragazza per essere stato così gentile con lei. Ma col passare del tempo, le lettere di Manuela cambiano drasticamente. Diventano piene di odio. Così smette di rispondere. Più tardi, quando la connessione tra Manuela e l'uomo leopardo diventa di dominio pubblico, quest'ultimo si arrabbia con la stampa, poiché iniziano a circolare articoli che insinuano l'esistenza di una relazione intima tra i due. L'uomo leopardo però si difende. Afferma che non è mai successo niente del genere, è un cattolico devoto e dedica almeno tre ore al giorno alla preghiera. Proprio a causa della sua fede, rifiuta qualsiasi relazione intima. Nel frattempo Manuela torna in Germania e si immerge nuovamente nella scena goth, facendosi coinvolgere sempre di più nelle sottoculture sataniste e vampiriche. Il 31 ottobre del 2000 esegue un rituale in cui dona la sua anima a Satana, giurando di servirlo. Poco tempo dopo, legge l'annuncio di Daniel nella sezione dei cuori solitari e gli scrive. A questo punto, Daniel e Manuela, come vi ho detto, si trasferiscono insieme in un appartamento a Bochum. Entrambi sono determinati a trasformarsi in vampiri e iniziano così ad alterare esteticamente il loro aspetto per riflettere questo nuovo stile di vita. Daniel si lima i denti fino a farli assomigliare a delle zanne, mentre Manuela sostituisce due dei suoi denti con dei lunghi canini affilati, sempre per assomigliare a un vampiro. I due iniziano a girare per la città con la macchina di Daniel, su cui spiccano le parole Impianto di lavorazione e cadaveri Cancello del bunker 785221 Da Howe e su cui hanno dipinto sui finestrini dell'auto un pentacolo. Sul bagagliaio spiccano le parole Grave Beauty. Mentre Daniel svolge effettivamente un lavoro diurno vendendo ricambi per auto, Manuela si immerge completamente nello stile di vita da vampiro, evitando la luce del giorno e uscendo dall'appartamento solo di notte. Quando Daniel torna a casa al termine della giornata di lavoro, trascorre la maggior parte del tempo con Manuela, eseguendo rituali in onore di Satana. La coppia acquista persino una bara per dormirci all'interno. Infatti Manuela durante il giorno giace in quella bara per sentirsi completamente al sicuro dalla luce del sole. Oltre a condurre questa vita in Germania, viaggiano spesso in Inghilterra e in Scozia per prendere parte all'attività di gruppo con altre persone che condividono il loro stile di vita. Questi incontri includono numerosi rituali, feste con altri adoratori di Satana e notti trascorse nei cimiteri. E onestamente tutto questo io lo vedo come una sorta di campeggio per vampiri, anche se mi fa molto sorridere. Come vi ho già detto, uno dei loro principali obiettivi è quello di diventare dei veri vampiri. Pregano quindi Satana, chiedendo di essere guidati per capire come realizzare questo sogno. La prima cosa che pensano sia richiesta dal loro signor oscuro è che si sposino il 6-6, quindi il 6 giugno. Tuttavia, poiché simbolicamente il diavolo è associato a 3-6 e non a 2, comprendono di aver commesso un errore nel presumere quali fossero i desideri di Satana. Si convincono quindi che il terzo 6 debba essere completato offrendo un sacrificio umano a Satana il 6 luglio, un mese dopo il loro matrimonio. Certo, un omicidio non è semplice da compiere, ma sono convinti che solo un atto terribilmente malvagio come questo possa attirare l'attenzione del loro signor oscuro e che solo in questo modo verranno ricompensati per la loro devozione. La vittima che scelgono si chiama Frank Hagen, un uomo di 33 anni, un collega di lavoro di Daniel. Frank è un ragazzo cordiale, amichevole e divertente che fa facilmente amicizia con tutti. Infatti, nonostante Daniel e Manuela siano considerati strani da molti, Frank diventa amico di entrambi, accettandoli così come sono, senza pregiudizi. Forse è proprio la sua natura amichevole che lo ha portato a diventare un facile bersaglio per i novelli sposi. Manuela e Daniel diranno in seguito di aver scelto Frank come sacrificio umano perché era divertente e, secondo la coppia, sarebbe stato il perfetto buffone per la corte di Satana. Così, il 6 luglio 2001, Daniel invita Frank nell'appartamento che condivide con Manuela con il pretesto di una festa. Frank, ignaro delle loro vere intenzioni, accetta l'invito, ma al suo arrivo si rende conto di essere l'unico ospite. Cosa alquanto strana. Daniel cerca subito di rassicurarlo, dicendo che gli altri invitati sono semplicemente in ritardo. I due iniziano a chiacchierare e Frank continua a essere completamente ignaro delle reali intenzioni dell'oscura coppia che nel frattempo cerca di metterla a suo agio. Daniel mette un po' di musica mentre Manuela gli versa da bere e rimangono seduti a chiacchierare insieme nel soggiorno. Mi chiedo se Frank invece non si sia sentito estremamente a disagio in quell'ambiente. È certo che da qualche parte in casa c'è una bara. E inoltre, dato che Manuela tenta in tutti i modi di evitare la luce del sole, le tende sono oscuranti e per illuminare le stanze vengono utilizzate delle candele invece che delle lampade. Dopo solo pochi minuti, Manuela lancia uno sguardo a Daniel. I suoi occhi sono scuri ed emanano malvagità. Segno che è arrivato il momento di agire e di mettere in atto il piano. La tensione inizia a crescere e Manuela si allontana da Frank che è ancora seduto mentre Daniel gli si avvicina da dietro e lo colpisce in testa con un martello, ripetutamente, con violenza, fino a quando l'uomo cade a terra e smette di muoversi. Daniel in seguito dirà che, mentre colpiva Frank col martello, sentiva la voce del diavolo che lo incitava. Manuela è emozionatissima. «Pugnalalo al cuore!» esclama, rivolgendosi a Daniel. Il ragazzo obbedisce e tira fuori un bisturi, probabilmente acquistato appositamente per l'omicidio, e inizia a pugnalare Frank. Diversi resoconti affermano che è stata Manuela a pugnalare Frank, ma la scena del crimine, con diversi coltelli insanguinati e il numero di pugnalate inferte, suggeriscono che lo abbiano pugnalato entrambi. Il numero di colpi è significativo. Frank è stato trafitto 66 volte, un altro omaggio simbolico a Satana. Dopo aver terminato il macabro rituale, la frenesia violenta della coppia non si placa. Dopo la morte di Frank, decidono di mutilarne il cadavere. Bruciano il suo corpo con numerose sigarette e incidono un pentacolo sulla sua pelle. Poi commettono un atto veramente disturbante. Prosciugano il sangue rimasto nel corpo della vittima. tirando una vena. Lo versano in delle ciotole e per finire lo bevono. Dopo aver pregato ininterrottamente, aspettano di trasformarsi realmente in vampiri. Ma non succede nulla. E a questo punto la coppia non sa cosa fare. Sono consapevoli del fatto che c'è un corpo senza vita nel loro appartamento, ormai intriso di sangue. E così decidono di fuggire. Pensano che forse il motivo per cui non si sono trasformati in vampiri sia che un solo sacrificio umano non è sufficiente per dimostrare la loro lealtà al diavolo. Così creano una lista con altre 15 potenziali vittime. Al termine della lista si legge Rallegrati, sarà il prossimo. Dopo aver recuperato alcune cose, lasciano la città, ma dimenticano la lista compilata poco prima. Tuttavia, questo non sembra essere un problema per loro, possono certamente improvvisare. Alcuni resoconti suggeriscono che la coppia fosse in preda al panico e per questo si è fuggita in fretta, ma io non credo che sia andata così. A me pare il più probabile che fossero intenzionati a continuare la loro serie di omicidi. La loro prima destinazione è Zondershausen, una città tristemente nota proprio per un omicidio attribuito al satanismo. È il luogo di nascita di Hendrik Mobus, il fondatore di una band death metal chiamata Absurd. Nel 1993, insieme ad altri due membri del suo gruppo, aveva assassinato un compagno di classe di 15 anni di nome Sandro Bayer. La stampa tedesca all'epoca l'aveva descritto come un rituale satanico, anche se dalle prove era emerso che non fosse stato eseguito nessun rituale. Il fatto che la band fosse classificata come parte del movimento nazionale socialista black metal e che la loro musica contenesse testi con riferimenti filo-estremisti e temi pagani, ha alimentato la narrativa mediatica che legava l'omicidio a ideologie estremiste. In realtà la vittima, Sandro, era solo un adolescente che aveva come compagni di classe alcuni membri della band e non aveva fatto assolutamente niente di male, aveva solo cercato di socializzare con loro. Poco tempo dopo, Hendrik aveva sentito delle voci riguardo una presunta relazione tra un membro della band e la madre di un compagno di classe ed era convinto che a diffonderle fosse stato proprio Sandro. Così, con l'aiuto della sua fidanzata, Hendrik aveva attirato la sua vittima in una cabina isolata nel bosco. Lì lo avevano legato a una sedia e lo avevano strangolato con un cavo elettrico. Alla fine, Hendrik lo aveva pugnalato per assicurarsi che fosse morto e insieme avevano poi seppellito il corpo in un cantiere edile. Successivamente, gli adolescenti sono stati processati e condannati per l'omicidio. Hendrik è stato condannato a otto anni di prigione ma dato che al momento del crimine aveva meno di 18 anni, ha ottenuto la libertà vigilata nel 1998. Libertà vigilata che però gli è stata rievocata quando ha eseguito il saluto nazista durante un concerto. Un atto illegale in Germania. Era fuggito negli Stati Uniti ma poco tempo dopo era stato catturato dagli US Marshals nel 2001 e rimpatriato in Germania per scontare la pena detentiva. Poco tempo dopo era stato nuovamente rilasciato e aveva iniziato a gestire un'etichetta discografica che distribueva musica black metal nazionalsocialista. Ma ora torniamo a parlare di Daniel e Manuela. I due dopo essere fuggiti dall'appartamento vanno a visitare il luogo in cui è stato assassinato Sandro Bayer. Fanno tappa anche al cimitero dove è sepolto. Il nome della madre di Sandro figura sulla lista che la coppia aveva stilato ma che hanno dimenticato nell'appartamento. Durante la fuga Manuela invia una lettera a sua madre. Vi leggo un estratto. Non sono di questo mondo. Devo liberare la mia anima dalla carne mortale. Preoccupata che si trattasse di un biglietto d'addio e temendo che la ragazza volesse porre fine alla sua vita la madre contatta le autorità chiedendo che venga fatto un controllo presso l'abitazione di sua figlia per assicurarsi che stia bene. Sono già passati alcuni giorni dall'omicidio quando la polizia si presenta alla porta dell'appartamento dei due aspiranti vampiri. Non ricevendo risposta decidono di entrare comunque. Ciò che trovano all'interno è una scena a dir poco raccapricciante degna del più macabro film horror. La prima cosa che attira la loro attenzione sono delle strisce di sangue secco schizzate sulle pareti dell'appartamento buio. Nel soggiorno l'odore di decomposizione riempie le narici degli ufficiali e la loro attenzione viene attirata da una bara. Sotto uno striscione che recita quando Satana vive c'è il corpo mutilato di Frank Hagen con un bisturi ancora conficcato nel petto. Il suo volto è riconoscibile a causa delle martellate che gli sono state inflitte. Nell'appartamento la polizia trova la lista delle future vittime di Manuela e Daniel insieme a diversi scritti che forniscono agli ufficiali prove schiaccianti del coinvolgimento in questo orrendo crimine. Temendo che i due abbiano pianificato di portare a termine una serie di omicidi le autorità capiscono di doverli arrestare il prima possibile. Daniel e Manuela vengono individuati una settimana dopo a Jina una città della Germania orientale. La storia del crimine che hanno commesso e la successiva copertura mediatica li trasforma presto in una notizia da prima pagina. Durante l'interrogatorio Daniel inizialmente non dice nulla mentre Manuela non vede l'ora di condividere la sua storia. È decisamente ufolica quando racconta i dettagli dell'omicidio e descrive con passione il suo amore per Satana e tutto ciò che sa dei vampiri. Alla prima domanda postagli Daniel afferma di non ricordare niente. Tuttavia dopo aver visto sua moglie raccontare con orgoglio dettagli del loro crimine decide di seguire il suo esempio. Non molto tempo dopo la stanza comincia a ritrarre Daniel e Manuela come il male personificato descrivendoli come adoratori di Satana e assassini che hanno ucciso nel nome di un culto. Tuttavia la verità è che la coppia non appartiene a nessun culto. Loro due soltanto avevano pianificato e portato a termine l'omicidio di Frank senza essere legati a nessun gruppo satanico. Tutti i rituali che eseguivano erano loro creazioni. Questo omicidio si verifica nel 2001 solo pochi anni dopo l'era del satanic panic un fenomeno che si era verificato a partire dagli anni 80 e si era protratto fino a metà degli anni 90. In quel periodo i crimini commessi da adolescenti o giovani che si dilettavano in credenze o pratiche alternative come l'occultismo o che erano fan della musica metal venivano automaticamente attribuiti ai satanisti e venivano etichettati come omicidi rituali anche se in realtà questo accadeva molto ma davvero molto raramente. Agli inizi degli anni 2000 alcuni membri dei settori più conservatori della Germania aveva cominciato a temere l'ascesa della cultura got tra gli adolescenti tedeschi e la crescente popolarità della musica black metal sono particolarmente allarmati anche da una minoranza di questi giovani che abbraccia opinioni fino a notte e che manifestano atteggiamenti satanici tramite simboli indossati o tatuati sui loro corpi la stampa quindi riporta la vicenda di questa bizzarra coppia che si identifica come vampiri e ammette di adorare il diavolo la notorietà di Emanuele e Daniel cresce e loro si godono i brevi momenti di fama ammettono apertamente il loro crimine raccontando in tribunale ogni sordido e raccapricciante dettaglio tuttavia si tiene un processo parallelo poiché il loro comportamento oltraggioso induce la corte a chiedersi se la coppia sia mentalmente idonea per essere ritenuta responsabile del crimine le testimonianze di Daniel e Emanuele vengono ascoltate per determinare se abbiano commesso un omicidio a sangue freddo oppure se si tratti di un atto folle commesso da due persone malate di mente il loro comportamento in aula solleva certamente dubbi sul loro stato mentale quando vedono la famiglia di Frank li scherniscono facendo sibilare la lingua e sorridendo soddisfatti Daniel si muove mentre è nella sua cella e beve il proprio sangue spaventato quando l'emorragia non cessa però chiede cure mediche questo perché tra i due voi dovete sapere che è Emanuele quella esperta quella in grado di prelevare il sangue senza perforare un'arteria importante Daniel ormai consapevole di non essere un vampiro non cambia comunque atteggiamento e rimane sulla sua posizione si atteggia in modo provocatorio e dice ai suoi avvocati che non prova alcun rimorso per l'omicidio che ha compiuto dichiarando di voler diventare più famoso di Charles Manson Emanuele invece chiede che le luci vengano spente nell'aula di tribunale sostenendo di essere sensibile alla luce del giorno la sua richiesta viene respinta ma le viene permesso di indossare un paio di occhiali da sole si presenta in aula con le lunghe unghie limate a punta e con la testa parzialmente rasata sulla quale è stata lasciata in bella vista una croce rovesciata durante il processo quando viene interrogata Emanuele afferma che è stato Satana a chiedere l'omicidio lei e suo marito stavano semplicemente obbedendo al suo volere afferma che Frank e la sua famiglia dovrebbero sentirsi onorati di essere stati scelti come sacrificio per Satana perché il loro obiettivo era solo liberare la sua anima affinché potesse servire il loro signore oscuro anche Daniel sale sul banco dei testimoni ma nega di essere il responsabile dell'omicidio e della mutilazione di Frank se investo una persona con la mia macchina e metà della sua testa insanguinata rimane sul mio paraurti la colpa non è della macchina è l'autista essere malvagio non ho nulla di cui pentirmi perché non ho fatto niente di male la logica completamente ribaltata di Daniel è sconcertante cerca di paragonarsi un essere umano dotato di libero arbitrio a un oggetto inanimato le opzioni sono due o sta fingendo di essere mentalmente instabile o lo è davvero durante il processo Daniel fa anche gesti minacciosi verso le persone che testimoniano contro di lui e sua moglie un ex amico di Daniel testimonia che sebbene fossero i rapporti amichevoli a un certo punto si era reso conto che Daniel stava diventando sempre più paranoico mentre lui e sua moglie si immergevano nella loro ossessione per i vampiri Daniel accusa Frank di averlo tradito e lascia emergere il suo lato furioso e pericoloso l'ex amico rivela inoltre alla corte che pochi giorni prima dell'omicidio di Frank Daniel gli aveva inviato una lettera minacciosa insieme alla lettera c'era anche una foto di Daniel appeso a testa in giù tramite delle catene di metallo che pendevano dal soffitto mentre puntava delle pistole verso la fotocamera gli psichiatri che hanno valutato la coppia riferiscono alla corte che sia Daniel che Manuela soffrono di un grave disturbo narcisistico della personalità parliamo di tre psichiatri diversi e tutti e tre concordano con questa diagnosi Manuela già da bambina soffriva di allucinazioni uditive e sembra molto probabile che soffrisse già allora di un grave disturbo mentale la ragazza afferma di aver percepito la presenza di una forza molto potente al momento della morte di Frank aggiungendo che il suo coltello aveva iniziato a brillare mentre lo pugnalava e che la luce nella stanza sfarfallava nel momento in cui l'anima di Frank aveva lasciato il suo corpo entrambi coniugi ruda vengono giudicati colpevoli il 31 luglio 2002 il giudice emette la sentenza secondo lui questo caso non riguarda il satanismo ma è un crimine commesso da due persone con gravi disturbi mentali non c'è nulla di mistico nel delitto commesso dalla coppia il giudice stabilisce che a causa del loro stato mentale è più appropriato che scontino la pena in una struttura psichiatrica protetta ricorda che sono esseri umani non mostri e condanna Daniel che ha 26 anni a 15 anni di reclusione mentre Emanuela che di anni ne ha 23 viene condannata a 13 anni di reclusione alla coppia non viene più permesso di vedersi o di comunicare tra loro Daniel e Emanuela si scambiano un ultimo bacio appassionato prima di essere separati per sempre il tempo trascorso nella struttura psichiatrica si rivela benefico per Emanuela le vengono somministrate dei farmaci offerte delle consulenze e soprattutto raggiunge una stabilità che non aveva mai avuto in precedenza prima del suo rilascio nel 2015 divorzia da Daniel e rilascia un'intervista in cui esprime un profondo rimorso per quello che ha fatto parla anche di tutte le lettere che lei e Daniel hanno ricevuto da adolescenti che li ammiravano durante il processo infatti diversi goti aspiranti vampieri avevano cercato di occupare i primi posti in aula per sostenere Emanuela e Daniel considerandoli dei modelli di riferimento ma Emanuela ora pentita afferma che aveva ricevuto quegli elogi solo perché quei giovani come lei si sentivano dei disadattati dice dopo sette anni di condanna sono qui seduta e ti dico che non sono altro che una criminale dichiara che quando verrà rilasciata le piacerebbe lavorare in un programma per aiutare i giovani a prendere le distanze dal tipo di stile di vita che aveva abbracciato solo così forse avrebbe potuto fare ammenda Daniel invece continua a non mostrare alcun rimorso per l'omicidio che ha commesso durante la sua detenzione scrive un libro intitolato Fehler Code 211 in cui spiega cosa è realmente accaduto in poche parole in questo scritto sostiene la sua innocenza nonostante si trovi in carcere Daniel continua a rappresentare una minaccia per la società inizia una corrispondenza con una donna e quando Manuela decide di divorziare da lui Daniel chiede a questa donna di ucciderla il piano prevedeva che la donna trovasse un lavoro nell'ospedale psichiatrico in cui era ricoverata Manuela ma invece di seguire questo piano la donna denuncia il complotto alla polizia nel 2016 Daniel viene nuovamente processato durante il processo il suo avvocato lo ritrae come un uomo cambiato lavora nella biblioteca della prigione e riceve regolarmente visite dalla madre ormai 75enne non assume più sostanze né alcol e dichiara di voler solo rientrare nella società trovare una donna da sposare e mettere su famiglia i genitori di Frank si oppongono al suo rilascio anche se sanno che prima o poi Daniel sarà reintegrato nella società la madre di Frank Doris dice ai giornalisti spero che non lo lasciano uscire non sto bene sono psichiatricamente distrutta piango molto sarebbe un incubo per me se lo lasciassero uscire il padre di Frank aggiunge Daniel Ruda camminerà verso un futuro luminoso io camminerò solo verso il cimitero per far visita a mio figlio Daniel viene rilasciato nel settembre 2017 dopo aver scontato completamente la sua condanna a 15 anni gli viene permesso di cambiare il suo nome in Daniel Wagner e la sua attuale ubicazione è sconosciuta arriviamo alle conclusioni Daniel ha mostrato caratteristiche narcisistiche da manuale si credeva superiore agli altri e si sentiva autorizzato a vivere qualunque fantasia violenta lo attirasse ha coltivato queste fantasie nel tempo con costanza inizialmente attraverso attività politiche e violente credo che stesse semplicemente giocando un ruolo recitando la parte del vampiro satanista per giustificare le sue inclinazioni brutali Manuela invece sembra aver sofferto di un grave disagio mentale fin dall'adolescenza se non da prima le sue allucinazioni uditive erano reali e la sua ossessione per certi argomenti come l'automutilazione e il vampirismo alla fine rappresentavano solo un modo di sentirsi normale anche se sembra un paradosso era già autodistruttiva prima di incontrare Daniel e forse l'amore che provava per lui era in realtà una sensazione di sollievo finalmente si sentiva compresa da un altro essere umano ma questo è amore? io non credo fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo caso concordate con le pene che sono state inflitte? sono onesta questo è uno dei casi più folli che abbia mai raccontato e la parte dell'uomo leopardo onestamente mi ha lasciato a bocca aperta ho pensato che questo video fosse perfetto per il periodo di halloween quindi vi auguro di divertirvi il 31 ottobre noi comunque ci vediamo anche mercoledì che è il giorno prima di halloween non salta nessun video tranquilli ci tenevo solo a farvi gli auguri per due volte in due video diversi nella settimana di halloween quindi mi raccomando divertitevi il 31 ottobre e fatemi sapere quali sono i vostri programmi per la notte più spaventosa dell'anno io probabilmente parteciperò a una cena con delitto detto questo ragazzi e ragazzi vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.